No, ormai si può fare tutto, perché tanto non se ne può tenere nessuno. Si può, ecco. Si può, esattamente, questo è il punto. E quindi, e poi invito non soltanto ovviamente ad ascoltare questo disco, ma anche a riascoltarvi le canzoni di Gabri, perché lì ci trovate veramente tutto il presente e tutto quello che accadrà in futuro. Questo è Si può. Si può, siamo liberi come l'aria. Si può, si può, siamo noi che facciamo la storia. Si può, si può, io mi vesto come mi pare. Si può, sono libero di creare. Si può, sono padrone del mio destino. Si può, ho già un nuovo telefonino. Si può, si può, occuparsi del turismo. Si può, fare il tifo per il buddismo. Si può, con un gioco televisivo. Si può, inventare ogni giorno un divo. Si può. Basta uno spunto qualunque la nostra fantasia non ha confini. Basta un colcio un po' scadente e noi perpetuiamo allegramente la creatività dei popoli latini. Si può, far miliardi con lena lotto. Si può, essere vittima di un complotto. Si può, far la guerra per scopi giusti. Si può, siamo autentici, facilisti. Si può. Si può, trasgredire qualsiasi mito. Si può, imbacchirsi di un travestito. Si può, fare i giovani a 70 anni. Si può, fare esplodere il sesso ai nonni. Si può. Si può, con alle spalle una storia esaltante di invenzioni e di coraggio. Si può, è naturale che poi siamo noi che possiamo cambiare tutto a patto che ogni cosa vada sempre peggio. Si può. Si può, siamo liberi come lai. Si può, siamo noi che facciamo una storia. Si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Sono assai cambiato, sono così spregiudicato. Sono infedele, sono matto, non so far tutto. Viene la paura di una vertigine totale. Viene la voglia un po' anormale di inventare una morale. Utopia. Utopia. Utopia, via, via. Si può, ricoprirsi di gran tanto oggi. Si può, fare politica, poi sondaggi. Si può, liberarsi e cambiare ruolo. Si può, rinnovarsi le tette e il comune. Si può. Però di assiduo, rovello sociale, sembra che la gente goda. Tutti che dicono a loro facciamo un bel coro di opinioni fino a quando il fatto non è più di moda. Si può, far discorsi convenzionali. Si può, con il tono da intellettuali. Si può, dare al mondo un messaggio giusto. Si può, a livello di Gesù Cristo. Si può. Si può. Si può. Si può. Far giudistica, un'ora al giorno. Si può, collegarsi con i siti porno. Si può, al ridosso delle elezioni. Si può, insultarsi come coglioni. Si può. Si può. Contro il gran numero di ideologie che noi abbiamo rifiutato. L'unica grande invenzione davvero efficace che ci piace è questa dittatura imposta dal mercato. Si può. 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 Si può.